La Fondazione Carispac, l'Associazione Pronatura e l'Università dell'Aquila custodi della biodiversità del Giardino Alpino di Campo Imperatore. È stato presentato infatti il progetto Una storica realtà da valorizzare, il Giardino Alpino di Campo Imperatore dell'Associazione Pronatura, sostenuto dalla Fondazione Carispac. L'intervento prevede lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del giardino, necessari a contrastare i danni causati dalla rigidità del clima invernale e dallo scioglimento della neve durante la primavera. L'obiettivo è valorizzare gli ambienti di alta quota, in particolare del comprensorio di Campo Imperatore, sia dal punto di vista naturalistico che didattico divulgativo. Il Giardino Alpino dell'Università dell'Aquila, situato nel comprensorio del Gran Sasso, fu fondato nel 1952 dal botanico Vincenzo Rivera, con l'intento di sperimentare ed acclimatare le piante foraggere dei pascoli montani, che rappresentavano una indispensabile risorsa per l'allevamento del bestiame. Negli anni il Giardino Alpino, oltre alle funzioni scientifico-didattiche, assunse notevole importanza ai fini turistici e di promozione dell'educazione scientifica e della cultura ambientale, rappresenta infatti un'osi di conservazione e ridiffusione di piante in pericolo di estinzione, sia nell'ambito del territorio del Parco del Gran Sasso che dell'intero Abruzzo. La mancata manutenzione per un lungo periodo di tempo determina praticamente l'azzeramento, diciamo così, di questo particolare intervento botanico che è una caratteristica nascendo nel 1952 oramai fa parte di un patrimonio naturalistico che doveva essere, merita, doveva meritare attenzione e merita tuttora attenzione. È una delle particolarità, diciamo, di queste flora in altura che è certamente uno dei tanti motivi di interesse del Gran Sasso. Noi abbiamo dedicato anche a un altro intervento di richiamo che è il restauro dei ruderi di Sant'Egidio. Cerchiamo di fare la nostra parte per quello che ci compete. Quanti fondi mettete a disposizione per questo intervento? Non è un intervento eccessivamente, diciamo così, impegnativo. Io credo che ragionevolmente con 4-5 mila euro riusciremo a venirne a capo perché poi il problema sarà la manutenzione che però verrà fatta dall'università. Le attività del giardino sono state finanziate dal 1997 fino al 2009 da una legge regionale. Ora la fondazione Carispac, con un intervento di circa 4 mila o 5 mila euro, permetterà di riutilizzare al meglio l'area. La manutenzione verrà fatta poi dall'università e da Pronatura.